signori buongiorno buongiorno a tutti buongiorno a tutti eccoci qua attendiamo un attimino che ehm la platea si piena ciao a tutti allora siamo su vari canali per cui ci vediamo online allora ho voluto fare questa diretta come eh voglio fare delle dirette nei giorni prossimi per far comprendere tutte le persone dopo la serata del ventotto di giugno ventotto di giugno mi ha fatto una serata molto importante sotto la descrizione trovo il link per accedere al canale YouTube e vedere la registrazione della serata del ventotto di giugno eh dove abbiamo fatto vedere come funzionano gli investimenti di medio termine ok funzionano eh come si può investire nel medio termine in totale sicurezza ok quindi come ci si può muovere eh alla perfezione allora intanto so entrando anche qua bene così eccoci qua un attimo che abbassa il volume eccoci qua ok bene 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 fatemi sapere se si sente tutto bene eh ecco siamo su vari canali per cui ok benissimo allora investire nel medio termine quello che stiamo facendo vedere quello che è stato l'insegnamento del ventotto di giugno è quello che stiamo vedendo adesso insieme in queste dirette delle dodici e trenta stiamo vedendo come è possibile utilizzare un sistema di investimento con una certezza non dico del cento per cento quando parliamo di investimenti non si può mai dire che c'è una certezza del cento per cento ma ne siamo veramente vicini perché abbiamo a che fare con delle operazioni di investimento con delle operazioni di compravendita di un termine medio per medio intendo qualche settimana o qualche mese quindi le operazioni possono durare in media tre settimane un mese fino alla media di tre quattro mesi massimo a volte c'è la volta in cui si chiudono prima a volte c'è la possibilità di chiudere un mese dopo però indicativamente sono queste le tempistiche e sono operazioni da una sicurezza estrema quindi un metodo di investimento che noi testiamo ormai da tantissimi anni da oltre sedici anni utilizziamo questa metodologia una metodologia veramente del risultato eccezionale nei nostri canali nei nostri abbonamenti stiamo portando questa metodologia a favore delle persone che seguono insieme a noi le operazioni ok quindi ehm dopo il ventuotto di giugno è stata fatta un'offerta un'offerta per fare per seguire questa metodologia seguire questi investimenti pochi investimenti durante l'anno due tre cinque operazioni al massimo durante l'anno ma sono due tre cinque operazioni che portano dei risultati estremi perché hanno una certezza non dico assoluta ma manca veramente poco sulle movimentazioni sono semplicissimi abbiamo un sottostante di aziende grandissime che ha quindi abbiamo anche una protezione del nostro capitale abbiamo la possibilità di avere dei dividendi abbiamo la possibilità di lavorare in marginazione per avere anche maggiori risultati ehm per cui sono con pochissime operazioni all'anno per chiunque è amante ad esempio del mercato immobiliare con queste operazioni eh con queste movimentazioni si fanno quelle due tre quattro operazioni all'anno io direi cinque sei proprio per esagerare ma sono anche troppe tre due tre quattro operazioni all'anno sono più che sufficienti per ottenere dei risultati estremi se uno andasse a fare degli investimenti immobiliari dovrebbe comprare ehm avere la burocrazia il notaio delle ricerche le ristrutturazioni un mercato dove si impiegano tantissimi capitali senza una certezza tempistica eh di risultato e quando si sbaglia i guai sono grossi i guai costano decine di migliaia di euro ok gli errori che si possono fare in queste nelle operazioni immobiliari mentre in queste operazioni l'errore massimo che può capitarti è che invece di chiudere un'operazione in tre mesi la chiudi in cinque e mezzo ok ma difficilmente vai oltre l'impiego del capitale delimitato e non hai burocrazia ok quindi hai dei risultati veramente estremi quindi al di sotto della descrizione trovi tutto per andare a vedere gratuitamente eh la serata informativa che abbiamo messo a disposizione abbiamo fatto vedere anche come funzionano gli investimenti di medio termine durante la serata informativa che è un vero e poco corso gratuito eh che trovi quindi sul canale youtube sotto c'è il link trovi anche dei titoli che abbiamo messo a disposizione che le persone possono sfruttare attendendo i momenti ok adesso andiamo a vedere altre operazioni che noi abbiamo fatto qualcosa che abbiamo attualmente aperto quindi vi faccio vedere ehm le operazioni che abbiamo attualmente aperto per cui puoi anche tu monitorarle per visionare ti ricordo ancora il 10 di luglio scade della nostra offerta all'interno del della data informativa abbiamo fatto veramente una summer offer eccezionale per fare delle operazioni insieme a noi seguire le nostre stesse operazioni sul canale telegram dedicato più una serie di servizi assistiti e quant'altro per fare le operazioni insieme a noi allora andiamo a vedere andiamo a vedere mh che sono veramente ho veramente voglia di fare in modo che le persone inizino a fare basta con questi investimenti che ci propongono e le mh i consulenti finanziari e le persone che parlano di investimenti si parla sempre di cose rischiose di cose difficili ehm di strutturazioni che portano via tante spese tanti capitali con pochi guadagni di operazioni dove il rischio di cade perdere l'intero capitale altissimo mentre invece voglio che ognuno di voi impari una metodologia vincente perché questa è una metodologia vincente ragazzi ok una metodologia vincente che porta a risultati accertati poche operazioni ma quelle che hanno una percentuale di riuscita altissima sfruttando i movimenti laterali del mercato che sono i maggiori quindi sfruttando i movimenti laterali di grandissime aziende che male che vada tutto quello che ti può capitare che si fermano per un periodo ma sono aziende talmente grandi che seguono l'economia e quindi inevitabilmente se non recuperano in quei due tre mesi in cui stiamo lavorando recuperano due mesi successivi ma abbiamo la certezza di avere dei sottostanti quindi delle aziende che tengono botta alle nostre operazioni veramente straordinarie e le vediamo insieme voglio che ognuno di voi impari questa metodologia per chi vuole può seguirla quindi utilizzare sfruttare la summer offert e trovi la pagina con tutta la descrizione del nostro servizio assistito per gli investimenti di medio termine lo trovi qua nella descrizione allora questo è un'operazione che abbiamo aperto già da un po' di tempo su johnson and johnson un'azienda famosissima allora intanto voglio farvi vedere johnson and johnson ok qualcuno dice ma c'è il rischio di io non lo so dove c'è un è un'azienda guardate qua c'è giusto il covid ha avuto un'oscillazione ma è un'oscillazione leggera poi guardate questi movimenti continui che sono quelli che noi prediamo johnson and johnson chi ci segue sui nostri canali la utilizziamo come minimo dal 2014 2013 è la prima volta che utilizziamo sempre le solite aziende fate l'esempio fate l'occhio a questo grafico azienda non crolla mai non vedi un crollo verticale che vale 200 e te la trovi a uno e mezzo niente di niente e siamo andati indietro di tanto ma vogliamo andare indietro ancora di più vogliamo andare a vedere sul settimanale guardate qua ok non crolla mai non crolla mai piuttosto a dei momenti un lunghi per di andature lateralizzate che sono quelle che fanno al caso nostro pochi spunti durante l'anno ma sono gli spunti che una volta ne vengono presi portano lo ripeto non alla garanzia del cento per cento ma siamo molto vicini ok vi faccio vedere tornando ecco vi ho fatto vedere il settimanale per far vedere dov'è il rischio del capitolo guardando dal milenovecentottantuno dov'è il rischio del capitale il rischio del capitolo è il rischio del capitale non c'è ok bellissimo è straordinario ragazzi impariamo allora guardate come questa andatura laterale che corrisponde ai massimi del pre covid è un'andatura che inevitabilmente guardate guardate quante volte duemila e ventuno due tre quattro nel duemila e ventuno poi siamo andati al ventidue il ventidue e poi nel ventitré il momento in cui l'abbiamo presa noi perché il ventitré abbiamo visto questa parte siamo entrati insieme al nostro gruppo siamo entrati nel marzo già ci siamo fatti un primo movimento poi attualmente ce l'abbiamo ancora ok ce l'abbiamo ancora perché pensiamo guardate qua c'è pensiamo di prenderci questo movimento che ci porta almeno fino alla parte alta ma perché perché statisticamente fa questo ogni volta che va giù statisticamente va nella parte alta e non va mai sotto non c'è mai un crodo a 160 a 10 ok statisticamente queste sono operazioni ragazzi straordinarie dobbiamo imparare a lavorare con queste metodologie perché sono metodologie vincenti non sono metodologie tra l'altro da trader da soggetti che devono stare sul mercato dalla mattina alla sera devono stare con il computer davanti a vedere i prezzi che uscirono queste le guardi avanza tempo la sera ok quindi come vedi siamo entrati su questa parte e adesso si sta creando tra l'altro chiaramente il nostro obiettivo è tornare eventualmente intanto nella parte alta perché quando saremo nella parte a valuteremo come lavorare valuteremo se tenerla oppure a te vediamo potrebbe anche rompere e continuare la sua salita molto importante quanto puoi guadagnare con queste operazioni ok questa movimentazione che sostanzialmente può essere di circa 150 180 sono circa una trentina di dollari di movimentazione ok metti le 25 se mai non l'hai preso proprio nel momento più basso e qua non vende il momento più alto metti 25 dollari di oscillazione che sono veramente tanti significa poter acquistare questo titolo ecco torno torno a voi almeno ci guardiamo bene in faccia ok acquistare un titolo del genere eh con un intero capitale o come abbiamo fatto vedere nella nella precedente diretta quindi vatti a vedere anche la precedente diretta perché abbiamo analizzato ad esempio unilever abbiamo analizzato un altro titolo sul quale abbiamo fatto un'operatività quindi prendi tutte queste cose tutte queste chicche per imparare vale a rivedere sono veloci l'abbiamo fatta apposta eh per fare in modo che ogni persona possa imparare vatti a prendere queste operazioni ragazzi due tre quattro all'anno all'anno ti metti una serie di titoli cinque sei titoli te li metti lì aspetti che ognuno di questi titoli ti dia il segnale giusto aspetti ed entri metodologia quindi fa parte del cappello delle metodologie one time week in queste metodologie lavoriamo sul termine lungo sul termine medio come in questo caso sul termine brevissimo ok il termine lungo lo conoscete abbiamo fatto le dieci migliori azioni sulle quali investire ok con il risultato del cento venticinque per cento in quindici mesi nel duemila e venti l'abbiamo rifatto quest'anno vatti a vedere le dieci migliorazioni segnalate con i metodi di lungo termine a inizio anno e stiamo facendo un buon quindici per cento indicativamente da inizio anno quindi stiamo andando molto bene con ciò che abbiamo segnalato a inizio segnalato abbiamo fatto uno studio per fare in modo che ogni persona possa eventualmente avere delle azioni di riferimento poi vanno già abbiamo parlato anche di gestire con un metodo che giustamente ognuno deve avere nel proprio bagaglio culturale quando va a gestire determinati titoli ecco fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa che volete approfondire qualcosa che non avete capito sono a disposizione per le vostre domande ok domande ve lo scrivo qua sono a disposizione se avete volontà di avere degli approfondimenti su questo allora i risultati ecco vi vi faccio rivedere la grafica che avevamo preparato durante la serata vi faccio vedere le slide della serata del 28 giugno quindi abbiamo fatto vedere un po come funziona questa metodologia quindi se non l'hai vista ti consiglio di andare sotto trovi il link del canale youtube gratis ti vai a rivedere la serata che abbiamo fatto dove cacchio sono eccole ok abbiamo fatto vedere i risultati johnson johnson e questo è chiaramente fotografato la settimana scorsa quindi ci sono delle movimentazioni diverse in questo momento però abbiamo fatto vedere come ad esempio l'operazione sull'oro è un'operazione svolta in leva finanziaria o meglio in questo denaro non è un denaro che abbiamo messo interamente noi ok abbiamo messo una cifra molto minore ok puoi lavorare con due tre mila euro con queste con queste operazioni addirittura anche con meno con mille euro ok con un migliaio d'euro lavori con un corrispettivo più alto che cosa significa questo ok questo abbiamo preso l'oro a 1650 l'anno scorso ma abbiamo parlato al trading for lunch ragazzi era gratuito più o meno verso quest'ora eravamo indicativamente nel mese di settembre ottobre insomma l'anno scorso ok e significa che se io inserisco dentro una media di tre quattromila euro eh in realtà qui chiaramente lui mi dice io sto facendo il sedici per cento su su il denaro totale ma io non sto facendo il sedici per cento perché se io ho messo dentro tremila euro quattromila euro in questa operazione e lavoro con un corrispettivo più alto perché questo è il prezzo titoli della banca io sto facendo il cento per cento da questa operazione perché con quattromila messi sto facendo quattromila quindi io sto facendo il cento per cento con queste operazioni posso lavorare quindi con la marginazione che mi dà tranquillamente gratuitamente la banca il broker quindi puoi utilizzare fine equa faccio l'esempio di una ok ti danno la possibilità di lavorare in marginazione con la marginazione una sorta di prestito titoli e poi chiaramente avere delle delle movimentazioni più anche dove vedete del capitale più alto si lavora con una parte in marginazione ok perché si lavora con una parte immagina immagina questa è una delle delle operazioni che abbiamo fatto in totale marginazione allora abbiamo visto l'operazione su unilever vi faccio vedere qualche altra cosa Johnson e Johnson ve l'ho mostrata perché è un'operazione che abbiamo attualmente aperta ok ecco qua in questo momento valeva 162 e 47 mentre in quello che vi ho fatto vedere poco fa 162 e 47 se oggi vale 162 e 81 è leggermente sopra ok siamo leggermente sopra stiamo guadagnando qualcosa in più siamo al 650 indicativamente ok perché è salita un po rispetto al a quello che era ecco Microsoft qua questi invece sono gli affari questo è un affare del momento l'anno scorso i titoli tecnologici hanno hanno avuto dei momenti di sorno e andiamo a prendere questi sono queste parti lateralizzate che sono continuative in queste aziende ok una delle delle altre aziende molto utilizzate è coca cola ok o visa io vi farei vedere visa che è un'azienda oggi voglio farvi vedere visa le altre poi le facciamo vedere quindi vi ok aspetta giustamente non vi sto condividendo la parte dello schermo ok quindi ripeto se volete degli approfondimenti inviate domande ok un attimo inviate delle domande se volete degli approfondimenti tecnici di come utilizzare anche voi queste tipologie di investimento che sono fantastiche ragazzi ok visa eccolo qua ok visa lo guardiamo con un grafico giornaliero ok anche qua guardate ragazzi sto guardando da dietro c'è uno potrebbe dire ma rischio il capitale ma guardi faccio vedere settimanale faccio vedere il settimanale a partire dal ecco visa ha una quotazione a partire dal 2008 tra l'altro la crisi eccetera eccetera ma rischi il capitale ma io non lo so non so dove lo vedi ok vedi le movimentazioni di prezzo ma non vedo un grosso rischio ok vedete a volte è insito in una mentalità che ci siamo inchiodati nella testa ma che a volte non corrisponde a realtà ecco guardate guardate come visa nel corso del tempo oscilla ormai da un bel po di tempo ok più o meno i prezzi divisa dal 2019 quindi 2020 2021 2022 2023 da circa quattro anni si stanno muovendo indicativamente tra i 184 dollari e i 240 ok che cosa significa che quando un'azienda come questa rilevando il covid che è stata una cosa eccezionale ma che subito è stata recuperata quindi sono cose estreme che possono capitare una volta ogni 15 anni altrimenti ogni volta che questa azienda guardate quante opportunità ci sono state esempio nel 2020 nel recupero ancora nel 2021 il 2021 è stato un anno di crescita però ha avuto ha toccato questi minimi guardate poi dove nel 2021 siamo tornati a questi livelli a dicembre e guardate poi le opportunità che ci sono state nel 2022 per prendersi questa movimentazione ormai continuativa guardate nel 2022 abbiamo avuto già una prima opportunità qui uno due tre e guardate ogni volta ogni volta c'è il ritorno della parte alta vi è sceso un attimino un po di più ma metti il caso tu la compri qua ok a un prezzo un po più basso ma tende sempre a tornare là non crolla mai e la tendenza è quella di rimanere sempre su queste movimentazioni ok quindi noi abbiamo ad esempio visa l'abbiamo acquistata a 226 ok perché qui c'è una parte guardate come si muove adesso poi chi vuole vedere le metodologie con noi perché c'è una metodologia specifica per sfruttare sono metodologie che ci danno due fasce ok qua vedete sono due fasce molto simili c'è la fascia 1 e la fascia 2 ok è importante imparare questo in maniera semplicissima ragazzi questi sono investimenti che guardate una volta o di tanto la sera quando tornate dal lavoro mercati chiusi non dovete rompervi le scatole a cercare prezzi non prezzi identificare alcune aziende lavorare sempre sulle stesse attendere che durante l'anno ci siano momenti buoni ehm tenersi una di sette otto di queste tipologie di aziende che hanno un sottostante fortissimo e che cosa fare attendere che se non è una e l'altra più o meno ogni azienda ha la media di una due volte all'anno che ti dà il segnale giusto metti il caso hai sette aziende ehm in questa lista di controllo vuol dire che potresti avere potenzialmente quattordici segnali all'anno metti il caso ne prendi solamente sei o sette che sono più che sufficienti ne prendi solamente quattro quelli che ritieni migliori e riesci a fare le operazioni migliori al mondo ok migliori al mondo con una semplicità assoluta vieni con noi vi ricordo la summer offert sotto nel link trovi una pagina dedicata che vi spiega tutto e non solo hai il corso completo che ti insegna a fare questa tipologia di operazione con le fasce di livello di prezzo quando entrare quando uscire quando accumulare in che maniera e tutto quello che ti serve in più il canale telegram è dedicato dove fai le operazioni insieme a noi ti facciamo vedere noi insieme nel senso noi ti facciamo vedere quelle che stiamo facendo e quindi è la possibilità di seguire quelle che stiamo facendo dopo aver imparato tutto hai la possibilità di avere un periodo di assistenza hai ecco servizi dedicati per fare degli investimenti che ti porterai per la vita questo non è un metodo ve lo impari oggi poi l'algoritmo cambia tra sei mesi e l'anno prossimo non vale più no questo è evergreen questo lo insegna i figli e i pronipoti ok e andrà avanti è straordinario ok noi abbiamo preso la seconda fascia e stiamo tirando su ad esempio su visa abbiamo capito che il mercato stava tirando in alto per cui visa l'abbiamo presa nella fascia intermedia e a questo in questo momento sta facendo il 22 l'abbiamo presa 226 ok quindi ecco qua guardate la seconda qui c'è la fascia un fascia bassa fascia intermedia che più o meno l'abbiamo presa 226 quando è ripartito e siamo presi una abbiamo capito che c'è una movimentazione interessante e ci prendiamo la seconda parte qui non siamo neanche entrati sul minimo ma abbiamo visto che c'è la possibilità di prendersi questa parte intermedia fino alla parte alta ok chiudendo qua vuole dire che abbiamo portato a casa un 12 per cento abbondante in un'operazione che può durare qualche mese e se la facciamo in marginazione può essere un 12 che diventa un 24 che diventa un 50 per cento che diventa anche di più perché noi abbiamo messo un capitale minore e quindi delle operazioni che durano alcuni mesi che possono essere veramente una manna dal cielo allora impariamo a fare le operazioni di medio termine ragazzi impariamo a fare gli investimenti di medio termine appena sotto nel link trovi l'accesso te lo faccio vedere a questa pagina ok togliamo questo spegni schermo lo rimettiamo qua ok trovi questa ok la trovi linkata appena sotto investi in medio termine moltiplica i tuoi risultati qua trovi la spiegazione di tutto i servizi come puoi addirittura moltiplicare le operazioni fare il cento per cento l'ottanta per cento per singola operazione e qua trovi la descrizione al di sotto della pagina trovi la descrizione di quello che è stato l'offerta che abbiamo messo a disposizione entro il 10 di luglio per fare queste operazioni insieme a noi ragazzi ok la trovate al di sotto venite a trovarci facciamo insieme tante cose abbiamo promesso un anno di svolta e non è finita perché luglio vi faremo sorprese eseguiamo insieme queste operazioni perché vi assicuro noi le facciamo da anni ed è il sistema di investimento alla portata di tutti il più semplice il più sicuro che ti dà la possibilità veramente di seguire quelle operazioni che semmai hai sempre sognato quella tipologia di investimento che ti porta meno meno problema meno emotività più serenità perché sai cosa stai facendo sai dove stai mettendo il tuo denaro quindi basta un conto titoli un conto che potrebbe essere anche lo stesso conto della tua banca e iniziare a fare queste operazioni le attendi in serenità durante l'anno quando è il momento entri una due teleporti avanti quei due tre mesi esci con una contentezza straordinaria con delle performance che vorrei andare a sfidare altri che vendono investimenti di chissà quale difficoltà dove il rischio più grande è il capitale stesso e quindi grande consiglio ragazzi seguite ci vediamo in diretta vi faremo altre dirette ancora intorno a mezzogiorno e mezzo in questi giorni dove vogliamo che imparate assolutamente questa metodologia se vuoi impararla abbiamo fatto una serata dimostrativa il 28 giugno sotto nella descrizione trovi il link al canale youtube gratis abbiamo fatto vedere come funziona abbiamo dato una lista titoli che puoi utilizzare per imparare e entro il 10 di luglio che è la settimana prossima c'è la summer offert puoi entrare a fare queste operazioni insieme a noi con il canale telegram non mi vedi le hai la lista titoli con li abbiamo messo nelle gratuite abbiamo messo alcuni titoli di prova per farvi vedere come funziona nella parte nella nostra summer offert se lo fai insieme a noi hai i titoli migliori aggiornati continuamente quelli che noi utilizziamo più le operazioni che non abbiamo aperto sul canale telegram ne apriamo diverse per cui puoi scegliere apriamo diverse operazioni nel corso del tempo e puoi sfruttarle al cento per cento seguendo quello che facciamo noi più l'intero percorso dove impari al cento per cento questa metodologia e a portartela avanti in maniera totalmente autonoma ragazzi vi ringrazio qua mi raccomando riguardate condividete questa diretta fate vedere le persone che fanno degli investimenti fermateli ragazzi fermateli di ragazzi fermi non fate cazzate andiamo a fare degli investimenti sicuri io ormai da anni scommetto solo sul sicuro ok faccio investimenti che hanno una percentuale di sicurezza altissima qualcuno potrebbe dire ma voi siete speculatori per niente noi facciamo noi investiamo solo sul sicuro non teniamo le freccette sul bersaglio a fare le scommesse sperando di fare chissà che cosa questi sono investimenti sicuri e portate avanti con continuità con le giuste strategie ti portano una certezza di risultato ma una certezza anche di sicurezza a livello personale perché fai delle operazioni che ti danno veramente una sicurezza che il tuo capitale è veramente messo in cassaforte impariamo gli investimenti di medio termine ragazzi mid term andatele a vedere nella pagina guardate noi ci sentiamo nelle prossime giornate per altre dirette dedicate ok ciao a tutti buona continuazione buon pranzo ciao a tutti buon pranzo